I disordini alimentari sono diventati nell'ultimo ventennio una vera e propria emergenza di salute mentale per gli effetti che hanno sulla vita di adolescenti e di giovani adulti. Oggi la dottoressa Meozzi ci parlerà di anoressia e bulimia, quelle malattie complesse determinate da condizioni di disagio psicologico ed emotivo che richiedono un trattamento sia del problema alimentare in sé che della sua natura psichica. Per una persona anoressica poi il peso diventa il centro della propria esistenza? Assolutamente sì, il peso diventa il centro della propria esistenza e non solo, c'è un altro aspetto peculiare delle fanciulle anoressiche che si identificano totalmente con il cibo, anche per come si definiscono, dicono io sono anoressica, non io soffro di anoressia. C'è un ulteriore aspetto importante delle fanciulle anoressiche che ha a che fare con la fase, la cosiddetta fase luna di miele, ok? C'è un primo momento in cui proprio la soddisfazione di riuscire a controllare l'apporto calorico, quindi la restrizione, produce un buon umore, una capacità di concentrazione importante. Questo poi però è l'inizio della fine, nel senso che poi c'è il crollo perché da questo attento controllo si scatenano tutti i meccanismi di restrizione fatti anche dall'esercizio compulsivo che poi vanno a incidere sul continuare il circolo vizioso. Quali sono le caratteristiche? Come appunto già detto nell'anoressia nervosa le caratteristiche principali sono questa riduzione dell'apporto calorico che può portare a una riduzione del peso, questo uso eccessivo dell'esercizio fisico che diventa un'attività compulsiva, compulsiva significa che non se ne può fare a meno. Questa insoddisfazione per l'immagine corporea che può sfociare, spesso sfocia, nel disturbo psichiatrico del disturbo dismorfofobico. Per quanto riguarda la bulimia invece si chiama bulimia nervosa, nervosa sempre ha a che fare con la funzione psicologica. C'è un aspetto in più, sebbene questo disturbo condivida con l'anoressia l'attenzione per il peso e il problema della forma corporea, nella bulimia c'è un meccanismo che ha a che fare con abbuffata e condotte di eliminazione. È particolare anche il termine bulimia che vuol dire fame da bue. L'immagine del bue ha a che fare proprio con uno dei sintomi principali della buffata. La buffata è l'ingestione di una quantità di cibo eccessiva in un tempo ristretto. Considerate che circa in due ore nella buffata riescono a ingurgitare anche oltre 15.000 calorie. Che succede con questa buffata? Si producono sintomi negativi sia fisici che psicologici. Quello fisico è la sensazione di... lo stomaco si estende perché nella voracità dell'ingestione del cibo si ingurgita anche tanta aria, per cui le pareti dello stomaco si dilatano a tal punto da provocare un dolore immenso ed è da lì che deriva fame da bue il concetto di grandezza dello stomaco. Spesso le pazienti bulimiche parlano della buffata come un momento in cui hanno la sensazione che si strappino le pareti dello stomaco. Quindi producono un dolore immane. In più c'è anche dei sintomi emotivi negativi che hanno a che fare con il senso di colpa, la vergogna e la frustrazione. Perché? Perché nella buffata c'è un aspetto emotivo importante, la perdita di controllo. Cioè il soggetto lo sa che sta mettendo in atto la buffata, ma non riesce a fermarsi. Questo produce un senso di frustrazione immane. Questo senso di frustrazione è lo stimolo attraverso il quale poi viene portato a mettere in atto un secondo meccanismo tipico della bulimia nervosa, che sono tutti quei comportamenti compensativi che hanno a che fare con il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, l'uso di diuretici, l'esercizio fisico eccessivo. Prendiamo il vomito come condotta di compensazione che è la più frequente, va a sanare i due sintomi negativi che ho detto prima, perché con il vomito il rigurgito immediato di tutto ciò che ho mangiato mi riduce immediatamente e apparentemente le pareti dello stomaco e quindi il dolore che sentivo diminuisce e in più l'aspetto emotivo è che nel momento in cui io mi sento in colpa perché ho perso il controllo, se butto fuori tutto quello che ho mangiato è come se ci fosse una sorta di autopunizione e di espiazione della colpa, ho perso il controllo però ho buttato fuori tutto quello che ho mangiato. Questo è un aspetto però patologico perché che succede? Succede che nel momento in cui io butto fuori poi ho fame, risento la fame e qui viene fuori un altro aspetto della bulimia che è la confusione tra fame fisiologica e fame nervosa, la fame di origine psicogena che è legata a il gestire queste emozioni negative, cioè il cibo diventa lo strumento attraverso il quale io gestisco queste emozioni negative e non fa nient'altro che riattivare il circolo abbuffata condotta di eliminazione. Potremmo dire che la magrezza stalla onoressia come un vestito rappresenta il carattere di una persona. La relazione è solo superficiale e solo in parte significativa. Non commettiamo quindi l'errore di giudicare una persona nella sua complessità, nelle sue debolezze e risorse, dal vestito che porta. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!